La Voce Tua è una delle linee progettuali di Pesaro 2024 e nasce da una tradizione che il Comune di Pesaro ha, che è quella della lettura inclusiva. Anche se andate a vedere la delibera di fondazione del sistema Pesaro Biblioteche, ora le nostre biblioteche sono un sistema, ha tra i suoi punti proprio quella della promozione della lettura verso tutte le categorie di cittadini. Quindi l'importanza è quella di fare promozione della lettura, perché la lettura comunque è un atto fondante anche del nostro essere cittadini e per fare questo lo dobbiamo fare verso tutti. Quindi noi abbiamo una forte tradizione nelle biblioteche cittadine, sia di collaborazione con le altre realtà che nel territorio lavorano a vario titolo sulla promozione della lettura, ma anche sulla lettura inclusiva, perché ad esempio noi abbiamo una biblioteca, la Biblioteca Braille, che sia nello sviluppo delle collezioni che delle attività ha fatto un po' la propria bandiera, quella della lettura inclusiva. Tra l'altro questo ci ha permesso di vincere anche dei bandi nazionali abbastanza importanti. Quindi lettura per tutti, letture per tutte le fasce d'età, lettura per tutte le tipologie di utenza e letture anche per tutti quei cittadini che sono portatori di bisogni speciali. Attraverso A Voce Tua si mettono in pratica queste attività coprogettate appunto da, con e per le scuole, perché si possa in qualche modo avere non solo l'oggetto libro come appunto oggetto dell'indagine, ma sfogliarlo e interfacciarsi con esso significa creare delle buone e nuove relazioni per questi nuovi cittadini del domani. Quindi A Voce Tua mette in campo delle attività di bilinguismo, così possiamo dire, perché su queste tre linee guide, fronte a fronte, gesto a gesto, mano a mano, si mettono in scena tutte le possibilità che il libro ci può donare. Ci è sembrato naturale proporci e suggerire all'amministrazione di poter essere noi il soggetto che coordina un po' la parte appunto amministrativa burocratica, per cui siamo un po' a riferimento delle scuole che sono state selezionate e coordinate e dei progetti che abbiamo poi anche noi contribuito a selezionare. Il ruolo sostanzialmente è questo e siamo molto contenti di essere inseriti in questo ruolo, in questo senso, anche perché è un po' il coronamento di un lavoro fatto da tanti anni. Noi ci siamo costituiti come società nel 99 ed è un po' il riconoscimento di qualcosa che si è costituito in forma stabile, seria e strutturata da tanti anni e finalmente a questo punto vediamo che tutto questo investimento che abbiamo fatto ci viene un po' riconosciuto e siamo contenti di questo. Grazie a tutti.